Buongiorno a tutti, soprattutto buongiorno al direttore di Newtusha.it Gaetano Alaimo. Buongiorno Gioia, un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora oggi con Gaetano, perché in questo appuntamento del martedì e del giovedì facciamo un po' una disamina delle notizie che accadono quotidianamente. C'è una situazione un po' particolare al comune di Viterbo, ci sono due dimissionari e due assessore, non si dice assessore però insomma. Assessori donne. Che si sono dimesse, c'è stato un piccolo giallo e allora vuoi provare a cercare di chiarire un po' quello che, chiarire insomma, anche loro ce l'hanno le idee chiare. Soprattutto loro probabilmente. Soprattutto loro. Magari di fare una disamina di quello che sta accadendo. Allora hai detto giustamente è una situazione più al condizionale che all'indicativo, volendo trovare una battuta. Sicuramente la notizia certa è che per ultima l'assessore donna, come abbiamo detto Raffaella Valeri, area SEL, comunque si è rappresentata con una lista civica, si è dimessa. Questo è certo. Alessandro Zucchi ha lasciato un mini giallo anche se si va verso la conferma delle sue dimissioni, in quanto formalmente non ci sarebbe stato l'atto del protocollo che sancisce ufficialmente l'atto amministrativo delle dimissioni. Questi due atti derivano dagli incontri dei giorni scorsi e ormai parliamo di settimane tra il sindaco Michelini e la componente che fa riferimento a Serra nel Partito Democratico. Ricordiamo che sono sette consiglieri comunali che fanno riferimento a lui e vengono detti Serra Pannunziani parlando giornalisticamente, in quanto il consigliere regionale Pannunzi è un po' il riferimento a livello indiretto di questo gruppo. Con tutto il gruppo che sempre in maniera indiretta, noi parliamo da giornalisti, si rivede un po' nell'area popolare di Fioroni e qui fanno parte diversi, il resto appunto dei consiglieri del Partito Democratico. Tra i principali esponenti ricordiamolo l'assessore Ciambella, il vice sindaco che appunto è stato parte integrante di queste ultime ore, delle vicende che stanno accadendo. La situazione a mio giudizio è molto semplice, c'è una componente popolare che detiene la quasi totalità delle cariche amministrative, detiene il vice sindaco, quasi tutti gli assessorati insieme al Partito Democratico e come sappiamo tutti la parte che fa riferimento a Serra ha quasi aperto una crisi di fatto per ufficialmente non rivendicare posizioni di potere, in realtà chiamiamolo potere, questo è uno dei problemi. Si sono intromessi tra virgolette i civici che si sono ritrovati intorno al sindaco Michelini con la nuova formazione che lo ricordiamo ancora una volta, la lista dei riformisti e moderati si è appunto portato tre consiglieri provinciali a sostenere la maggioranza mazzola in provincia e quindi c'è una situazione adesso di dialettica. Quello che è stato positivo è l'approvazione del bilancio consuntivo che ha visto compatto il centro-sinistra, poi in realtà c'è stato un accordo a voce con il centro-destra rappresentato da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Fondazione di Gian Maria Santucci per approvare in una prima battuta appunto il consuntivo in cambio, tra virgolette ovviamente in cambio, dei fondi per il Teatro dell'Unione, sappiamo che si stanno per riavviare i lavori appunto al Teatro dell'Unione e altre misure minori che dovranno in qualche modo rilanciare l'operatività insieme alla provincia dopo mesi e mesi di stagnazione. Ha votato contro, se non sbaglio, solamente Viterbo 2020 e il Movimento 5 Stelle, quindi è una situazione in cui la convergenza per me è un atto positivo per quanto riguarda la stabilità del comune di Viterbo perché altrimenti si rischiava veramente l'appiattimento. Adesso ci sarà una verifica politica, i due assessorati che sono venuti meno hanno portato da 9 a 7 gli assessorati stessi e c'è chi parla addirittura di 6 assessorati ma io lo escludo. A nostro giudizio, l'avevamo già detto, è positivo il fatto che non tutti gli assessori esterni, mi riferisco a Vannini, per l'ambiente sono stati tolti perché quello che conta è l'operatività amministrativa di questi, quindi la valenza pratica e non esclusivamente la nomina o non la nomina. Ovviamente chi è stato eletto ha più diritto, però chi fa bene attualmente in una situazione come quella che stiamo vivendo è giusto che rimanga al suo posto. Citerei solo per concludere un comunicato molto importante. C'è una lettera della coordinatrice Tiziana Lagrimino della Segreteria Provinciale del Partito Democratico, a firma di molti esponenti della Commissione Federale di Garanzia del Partito Democratico e dell'Assemblea Provinciale, che giudicano incompatibili 8 membri su 11 della Commissione di Garanzia Provinciale del Partito Democratico. Questa è una estensione dello scontro in atto tra le due anime del Partito Democratico. La lettera è indirizzata al segretario provinciale, in particolare Andrea Egidi, per prendere una posizione su questa situazione che si è creata. Probabilmente questo è l'ultimo scoglio per avere una risoluzione definitiva di questa crisi che è interna al Partito Democratico, ma in realtà si è portata all'interno della maggioranza Michelini. Quindi attendiamo le prossime ore, vedremo il segretario provinciale Andrea Egidi come cosa deciderà e se prenderà atto di questa lettera. Io cambio completamente discorso e parlo di bellezza della nostra tuscia. Dunque qualche giorno fa cercavo tra i siti per vedere quali fossero le zone più belle da vedere per dare dei consigli agli ascoltatori e su ben due siti, uno sui posti più belli d'Italia, tra i dieci posti più belli d'Italia e su quelli più misteriosi, anche meno conosciuti, ma belli, ho trovato Civita di Bagnoreggio. Questo è bello perché ci fa onore sia Civita di Bagnoreggio che Bomarzo, gli unici due luoghi della tuscia che troviamo citati un po' dappertutto. Ora però sappiamo benissimo il problema di Civita di Bagnoreggio, è stato proprio il motivo per cui la città è stata abbandonata dai suoi abitanti proprio perché sorge su una zona che è particolarmente franosa e quindi pericolante. E c'è stato un appello giorni fa, credo lunedì scorso o domenica, adesso non mi ricordo bene, c'è stato un appello da parte del Sindaco per salvare, c'è stato anche il Presidente della Regione, Zingaretti? Allora l'appello è stato fatto ufficialmente martedì nel corso della conferenza stampa che è stata convocata dal Presidente della Regione Lazio, Zingaretti. Io adesso parlerò con parole, magari fuori dall'ordinario, di solito sono un moderato, per me è un risultato storico questo perché noi parliamo del Sindaco Francesco Biggiotti come rappresentante un po' di tutta la provincia, idealmente della provincia di Viterbo, perché è riuscito a coniugare l'aspetto turistico che ormai era già avviato di Civita di Bagnoreggio con l'aspetto istituzionale massimo a livello locale che è quello della Regione Lazio che in realtà è l'ultimo ente che ha veramente dei fondi di ricepimento dall'Unione Europea e che può intervenire. È un successo perché ci sono delle piccole frane continue, infatti non al caso è detta la città che muore proprio per questo e c'è stato proprio un appello di Zingaretti che ha portato alla ribalta ormai internazionale Civita di Bagnoreggio per delle firme illustri del mondo della cultura in particolare e delle istituzioni, niente meno che il secondo firmatario è Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica, abbiamo ovviamente il primo è il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e poi personaggi, ne cito solamente alcuni, il regista Bernardo Bertolucci, il maestro Andrea Camilleri, ci sono lo psicologo Paolo Crepe Ennio Morricone eccetera eccetera, quindi scalfari per quanto riguarda il giornalismo. È un appello che è stato presentato con la presenza appunto del sindaco Biggiotti del vice sindaco il giovane Luca Profili davanti a questi personaggi molto molto importanti della cultura. In breve nell'appello si chiede che il più possibile si firmi e si mettono in atto sia delle misure concrete, quindi dei fondi e delle attività promozionali per poter venire incontro e rendere sempre più conosciuta la problematica della città che muore, ricordo sopra i galanchi che sono delle rocce che si sgretolano se non vengono continuamente messe in sicurezza. Da un punto di vista mediatico è veramente un grande successo perché non si parla solo di turismo, di promozione, quindi questo fa il paio con la macchina di Santa Rosa Expo, sicuramente un altro panorama importantissimo per la provincia di Viterbo, però addirittura si riesce a coinvolgere delle personalità, ricordo anche Dacia Maraini tra le altre, per salvare un sito che è considerato tra i più belli d'Italia, quindi è un'azione che vede Bagno Reggio ormai come la principale cittadina, questo lo dico, prendo la responsabilità più turistica della provincia di Viterbo, ma da un punto di vista anche di operatività, di azione, non solamente una promozione fino a se stessa, ma un recupero che certamente con questi nomi secondo me ci sarà. Quindi una battuta per un fantomatico video che sicuramente anche voi avrete citato di un anonimo che ha citato una canzone intitolando La Civita Sbraca, quindi anche in dialetto locale. Carino. Il sindaco Biggiotti, oggi mi sono prolungato ma la notizia era molto importante, lo ha fatto anche visionare questo video con un'annessa canzone, è un modo molto molto intelligente secondo me per deridere dei piccoli personaggi di provincia che non sanno il patrimonio che hanno di fronte, quindi finalmente anche un modo quasi ironico, un sindaco che si prende un po' gioco di se stesso in senso simpatico per isolare ormai questi provincialismi. Il nostro sindaco Francesco Biggiotti facciamogli un applauso anche perché poi tra l'altro è anche uno dei sindaci più affascinanti, anche un bell'uomo. Vabbè io mi associo in senso indiretto da donna insomma. Va bene, allora adesso concludiamo con lo sport, parliamone perché insomma domenica c'è una partita importantissima, ci sono i playoff quindi insomma cerchiamo di, che ne so, tifare, che dobbiamo fare, scongiurare, fare... Allora io il prossimo intervento lo faremo un approfondimento, io mi limito semplicemente a dire che se mi sei in ascolto parlo direttamente al sindaco Michelini, sindaco va dallo stadio, è un momento importantissimo, la Viterbese è un passo dalla, facciamo le corna, da una potenziale promozione in Lega Pro, la città di Viterbo ha bisogno dell'istituzione e di tutti i tifosi allo stadio, è un momento molto molto importante perché si sa che in questi momenti i tifosi della Viterbese sono sempre stati presenti, ricordo l'amore dei tifosi della Viterbese di questi ultimi anni che ha portato nei momenti di gestione poco fortunata a delle collette collettive per portare la squadra in trasferta. Ora abbiamo una dirigenza come quella dei Camilli che ha una enorme esperienza, addirittura si parlava di una potenziale, appunto la Viterbese sarebbe stata completamente gestita solamente dai Camilli che avrebbero venduto altre partecipazioni e gestione di altre squadre, quindi è un momento importante, tutti coloro che sono in ascolto, che vogliono il bene di Viterbo vadano allo stadio e noi saremo presenti. Amministratori? Fatevi vedere, insomma, almeno in questa giornata che è importante, no? Sì, ti chiedo scusa che è un po' un appello, però secondo me… No, no, ma hai fatto benissimo, guarda, incontri perfettamente anche il mio pensiero perché durante l'anno non si è visto questo grande amore per… lasciamo perdere Marini che era un tifoso della Viterbese e c'era sempre, però insomma quella era una questione personale, però insomma anche tanto per far vedere la presenza che un sindaco, comunque anche gli assessori, chi per lui, insomma non dico che debbano andare a fare la passerella, però è anche un senso di riconoscimento a chi ci ha provato, poi speriamo, insomma crociamo le dita in tutti i sensi. Sì, concluderei così, questo potrebbe essere l'anno di Viterbo, ricordo l'Expo con la macchina di Santa Rosa, abbiamo citato la provincia con Bagno Reggio, la Viterbese che facciamo gli scongiuri vince il campionato, potrebbe essere un anno con la nuova macchina di Santa Rosa, un anno spettacolare, andate allo Stati. Ok, io ti ringrazio e ci fermiamo qua e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ricordo sempre i soliti canali social con il nome Gnotuscia, per chi vuole fare le denunce e le segnalazioni, su Facebook il filo diretto con i lettori a mio nome e può contattarmi. Grazie.